Bello ragazzi ed eccomi tornato, sono Cosfrax con un nuovissimo video Siamo oggi su FIFA 15 in cerca di una buona partita o di qualcosa insomma di un po' divertente Che un po' che faccia venire un po' ecco Ci siamo capiti insomma, no? Quindi insomma in ricerca di questa partita qua speriamo bene Ok l'avversario l'abbiamo trovato, adesso dobbiamo vedere che squadra ha Bene Aghero Starridge Di Maria Yaya Turera, Mires Beh Courtois pure Company, ce l'ha tutti Che cazzo, vabbè, vabbè C'è le partite impossibili ovviamente Le trovi quando devi andare a registrare Cioè mi sbagliano tutti i passaggi, incredibile Guarda, guarda Perché? Ma perché? La difesa è inesistente su sto gioco Tu vai dritto per andare in porta Il dritto, cioè è assurdo Due minuti, due, oh Mamma mia che palle Ok, buona per il quadratigno Che tira la botta Mannaggia a me dovevo avanzato, andò più avanti Avrei pure segnato, guardate Che palle Guarda eh, guarda eh Guarda no perché Ma fa tutte azioni così Possesso palle E quant'altro Non arriva dritto E arriva in porta Non a quello Va bene Va bene Oh, ole, ole Quadratigno Quadratigno È il quattordicesimo Quindicesimo Che cazzo è? Ole, uno a uno Ole, è così che devi andare È così che devi andare È così che devi andare È andare che devi così È andare che devi così Ole Ah, sì Godo Godo Bravo quadrato No Oh, oh, oh È so Eh vabbè ma si spostano Si spostano Oh, grande gigi intanto Grande risposta del portiere I miei giudici si spostano Questo gioco tu basta che No vabbè dai no No, no, no L'ho appena premuto B L'ho appena premuto Mamma mia Meno male che non me l'hai spulso Questo Spelle pure Cioè mi piace un casino a me come è fatto Per l'attacco Per queste cose Però c'è veramente Non, non Eh vabbè Madonna Ma che cosa fai? T'ho detto di passare all'altra parte Vaffanculo Non si riesce a fare un'azione Mamma mia Tra palla solo lui adesso Madonna santa No vabbè dai Un altro rigore Ma io non ci credo Ma che? Ma tutti così so A manetta E vaffanculo va Va dai Pure i fuorigiochi no Ok ottimo Dai dai no Dai no Cioè solo lui C'è i difensori veri Vabbè raga siamo al sessantatresimo Io qua la vedo abbastanza dura Una rimonta Verso la vittoria Però ci proviamo Però ci proviamo Tanto attenzione Che è partito quadrato No No Che hai preso Courtois Che cazzo hai preso Courtois No Non me lo dire così E vabbè Ma dai Che cazzo è a spallate Company è un difensore illegale Cioè è proprio illegale in 24 paesi Mannaggia la troia Qua aveva fatto il fenomeno E poi si è dato così Come i coglioni Guardateo Non passa una palla È una cosa incredibile Oddio mio È un altro gol Vaffanculo Cioè io Quando succede una roba del genere No Io non ci credo Io non ci credo Tutte le azioni io Tutti diri io Tutto quanto Poi arriva sto stronzo Sto stronzo Così Col primo lancio sfigato E ti segna No ma non è possibile Non puoi passare così sempre Guarda se ne va da solo questo Ma chi è? Eh vabbè manco questo Tutto sbagliano Sti test di minchia Vaffanculo Vaffanculo Niente vabbè Il video è finito Come al solito Mi invito a lasciare un mi piace E niente Lasciate un like Se volete il fuck you time Questa sera E da Cosfrax è tutto Ci vediamo al prossimo video Bella